Come può un anfiteatro tecnologico pensato per sviluppare le potenzialità dell'ascolto, di ecosistemi e musica, rappresentare l'impatto visivo di Raffaello Sanzio e della sua stanza della segnatura? E' questa la sfida in cui si lancia la sonosfera dei musei civici di Pesaro a due anni dalla sua inaugurazione. Il progetto di David Monacchi omaggia il quinto centenario della scomparsa del divin pittore offrendo una chiave di lettura in suono e musica antica al ciclo di affreschi ospitati nei musei vaticani. Il risultato è Raffaello in sonosfera, un'esperienza immersiva unica nel suo genere che il pubblico pesarese potrà apprezzare da sabato 15 gennaio nelle giornate di sabato, domenica e festivi in due fasce orarie, alle 11.30 e alle 17 precedute dalla già esistente immersione sonora naturalistica di frammenti di estinzione nell'orologio climatico. La sfida attraverso il suono di raccontare un artista visivo, un pittore, un artista straordinario come Raffaello e la sfida è molteplice, non è solamente abbinare un suono al lavoro straordinario come in questo caso la stanza della segnatura di Raffaello, dei Vaticani e quindi diciamo quella quadrilogia di opere straordinarie dalla scuola di Atene al miracolo dell'ostia, al Parnaso, insomma spazi che sono ormai nell'immaginario collettivo e nella riproduzione ormai anche pop della storia dell'arte, ma soprattutto andare a indagare quegli strumenti della sonosfera quindi che ha la possibilità di ingrandire al massimo livello grazie a immagini a definizione altissima, forse mai rilasciate per usi di questo tipo dai Vaticani stessi a disposizione del nostro progetto, quindi si sarà totalmente immersi nelle opere ma anche immersi nella musica e in questa immersione la possibilità di vedere dettagli che a occhio nudo anche in una semplice fruizione ai Vaticani è impossibile cogliere per la molteplicità quasi infinita di dettagli che Raffaello è andato ad inserire a livello simbolico, a livello numerologico, musicale all'interno delle sue opere, quindi un tributo da parte di Pesaro, città della musica unesco nel trovare quanto di musicale, di ulteriore artistico e creativo ancora magari meno colto, c'era dentro l'opera di Raffaello e chiaramente nel nostro territorio vale molto di più questo tipo di tributo e crediamo che insieme anche a Urbino e insieme a tutto il lavoro fatto in questi anni per la valorizzazione di Raffaello possa essere un tassello in più soprattutto tra le dalsale e le generazioni che possa avvicinare anche nuove fasci di pubblico.